Musica Ben ritrovati con le informazioni a cura di Meteocalabria.net Sono giorni caratterizzati dal tempo stabile e dal clima amita alle ore diurne più freddo al calare del sole, specie nell'interno Ove stiamo avendo importanti differenze di temperatura fra la notte ed il giorno Ecco il quadro per martedì 13 novembre Cielo in genere sereno, poco nuvoloso, possibili banchi di nebbio, foschia, notte e tempo, principalmente nelle aree interne Uno sguardo rapido al comportamento di mari venti e temperature Mari poco mossi, venti deboli di direzione variabile e temperature invariate In sintesi anche la previsione per mercoledì 14 novembre Sereno sull'Alta Calabria, poco nuvoloso, nuvoloso sull'aria centro-meridionale Ove nel corso della giornata non ci sentiamo di escludere locali e brevi piovaschi Temperature senza grandi variazioni di rilievo Venti deboli moderati dai quadranti nord-occidentali tendenti a spirare da nord entrosera Mari poco mossi ma con moto ondoso in aumento sempre dalla sera sullo Ionio Grazie per la cortesia e attenzione Appuntamento al prossimo aggiornamento Grazie per la cortesia e attenzione